Dagli attacchi della Peronospora, che ha messo in ginocchio il comparto vitivinicolo, qualcosa si è salvato, preservando la qualità dei vitigni che nei calici diventa sinonimo di eccellenza del vino abruzzese. Lo stesso, che sabato 18 novembre sarà protagonista della ventesima edizione del Premio Internazionale Pescara Wine Festival. Il Premio all'eccellenza del vino abruzzese sarà conferito nella Sala Consiliare del Comune di Pescara, nell'ambito di una cerimonia che sarà presentata da Francesca Manzini, a ingresso libero e con degustazione finale. L'evento di sabato è stato presentato nel corso di una conferenza stampa, alla quale ha preso parte Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale. È un straordinario modo per promuovere le eccellenze vitivinicole dell'Abruzzo, e quindi l'Abruzzo come regione, e cade quest'anno però nel momento peggiore per le aziende, per i produttori e per gli agricoltori che si occupano di vino, perché abbiamo approvato proprio l'altro giorno in giunta lo stato di calamità a frutto dell'aggressione che i parassiti hanno dato alle nostre vigne. Ciò comporta un momento di grande difficoltà. Quindi era importantissimo quest'anno ripetere l'edizione del Wine Festival, perché sottolinea l'importanza delle annate precedenti e incoraggia i produttori in questo momento molto difficile, per cui la regione chiaramente ha già fatto una parte di ciò che può fare. Ci attendiamo che il governo guardi all'Abruzzo, che ha questa specifica situazione di difficoltà, con un occhio di riguardo, perché lo meritiamo. Soddisfatto per i numeri della ventesima edizione di Pescara Wine, Luca Panunzio, presidente dell'Associazione Italiana Sommelier di Pescara, ha anticipato i numeri di questa edizione. Ventesima edizione, siamo veramente fieri e soddisfatti di aver raggiunto questo traguardo. La partecipazione, come sempre, è nutrita. 60 produttori abruzzesi presenti, 8 produttori di fuori regione per prendere premi speciali. Tra i premiati premiamo per la prima volta un vitigno autoctono, che la fa solo una cantina per il momento, ed è il vitigno Maiolica, che è un vitigno tipico abruzzese, riscoperto nella zona del Chietino, che ha delle caratteristiche opposte al Montepulciano, quindi è poco tannico, poco di corpo. Diciamo che somiglia a un vino della Borgogna. Quindi io sono fiducioso per questo comparto di vino rosso un po' più leggero che può uscire.